Tutti sanno che i bambini devono andare a letto presto per non farsi vedere da Santa Lucia. Chi trasgredisce questa regola rischia di rimanere senza regali. Pochi sanno, però, che anche i grandi nel giorno di Santa Lucia devono rispettare alcune regole. Regole che cambiano a secondo dei paesi e delle zone. Ad esempio, in Sicilia, a Siracusa, città dove visse e morì Santa Lucia, il 13 dicembre non si può mangiare nessun cibo che contenga farina di grano. E quindi né pane né pasta. Perché? Perché proprio a Siracusa, 250 anni fa, ci fu un periodo di grande carestia. Il cibo scarseggiava e la gente era ridotta alla fame. Allora la popolazione pregò e pregò Santa Lucia. E grazie alla sua intercessione, ecco che arriva in porto una nave carica di grano. Oh, erano così affamati che presero il grano e lo mangiarono così, senza macinarlo e farlo diventare farina, ma proprio cotto con un po' di acqua e quel poco di olio che era rimasto. Questa ricetta si chiama cuccia. In effetti, una volta la cuccia era solo salata, quindi grano, acqua e adesso mettono un po' di ceci. Ma pian piano si è trasformata. Infatti ora potete trovare una cuccia con lo zucchero, la cannella, il cioccolato, tanta ricotta e addirittura le scorze d'arancia candita. Insomma, un dolce buonissimo. A Siracusa, quindi, non mangiano i cibi con la farina di grano. In Bergamasca, invece, c'è un posto dove il 13 dicembre i grandi devono rispettare altre regole, precisamente ad Ambriola. È una piccola frazione di Costa Serina su in Val Brembana. Prima regola che devono rispettare è quella di non prendere il 13 dicembre in mano nessun ago, quindi non si può né cucire né rammendare, il rischio è di rimanere accecati. Insomma, è un omaggio a Santa Lucia che è la protettrice degli occhi e della vista, perché ci dice la tradizione che alla Santa Martire furono cavati brutalmente gli occhi. Insomma, almeno nel suo giorno non fatela lavorare come protettrice. è già impegnata a portare i regali ai bambini e non può pensare a tutto. La seconda regola, sempre per i grandi, è questa. Gli uomini che lavorano nelle segherie devono assolutamente riposare, tenere le lame ferme, immobili. Una volta, nelle valli bergamasche, di segherie, ce n'erano tante, e ce n'erano tante soprattutto nel periodo della Prima Guerra Mondiale, nel 1915-1918, perché durante la Guerra Mondiale serviva tanta legna. Voi dite la legna per la guerra? Eh sì, per tamponare le trincee, per costruire le baracche, per i reticolati che dovevano sostenere il filo spinato, e anche su per fare i sentieri in montagna. Insomma, sulla strada che sale a Serina c'era una di queste segherie, e la storia avviene proprio il 13 dicembre 1917. Questa segheria, che era stata di un padrone fino all'anno precedente, adesso era in mano a due fratelli, Davide ed Abramo, che si davano il turno per dirigere e controllare gli altri operai. Non solo, per farla funzionare anche di notte, ve l'ho detto, lavoravano notte e giorno proprio per i materiali della guerra, si alternavano direttamente loro due ai macchinari. Quel 13 dicembre, fregandosene dei consigli degli operai, che lavoravano lì da più anni, e che avevano ricordato ai due fratelli l'usanza di non lavorare quella notte, beh, la segheria era in piena attività. Anzi, i due prendevano in giro gli operai dicendo loro «Eh, ma figurarsi, ma cosa c'entra Santa Lucia? Ma va là, va là, ghimmi a oia, de laura, non avete voglia di lavorare!» Quella notte, il primo turno di lavoro, toccava ad Abramo. Stava preparando un tronco da mettere sul carrello, che portava i pezzi alla lama dentata, quando ad un certo punto sente uno strano rumore e subito dopo vede che il meccanismo del carrello si era fermato, di botto. Comincia ad armeggiare attorno all'apparecchiatura, ma non riesce a riavviarla. Va allora a chiamare il fratello, che dormiva in uno stanzione lì accanto alla segheria. Il fratello, Davide, si sveglia di malumore e comincia a prendersela con l'altro dicendogli «Ah, te se bude fa negot, non sai fare niente! Te se do, ma u gratalegni, ansel, u pela broc!» Non ve li traduco, ma sono veramente degli insulti. «Ah, se non ci fossi io, dem, dem, fa vet cosa ti è combinato!» Fammi vedere cosa hai combinato. E così i due, terminata quella breve litigata, cominciano a trafficare insieme sugli ingranaggi, finché, dopo un bel po' di sforzi, finalmente il macchinario riparte. Lentamente, lentamente, ma riparte. «Ah, test! Eh, per fortuna che che so me! Per fortuna che ci sono io!» Fa il fratello! Contento di poter tornare subito a letto. Insieme escono dallo stanzone per andare a bere qualcosa di caldo. Due passi, non di più... «SBAM! Un rumore! Ma uno schianto tremendo che li fa tornare subito indietro! Arrivano sulla soglia della porta e vedono un'immagine che non avrebbero mai dimenticato. La sega e il carrello mandavano fiamme dappertutto. «SBAM! Un altro botto!» E vengono ributtati indietro, oltre la porta. Terrorizzati, allora i due escono all'aperto e cercano anche aiuto per poter spegnere l'incendio. Quando ritornano con i secchi dell'acqua in mano, non solo il fuoco è sparito, ma non c'è nemmeno nessuna traccia dell'incendio. Anzi, non c'è proprio niente di bruciato. il macchinario sembra non aver avuto nessun danno. Anche se di nuovo lì fermo, bloccato. A quel punto i due fratelli, non solo un po' spaventati, ma ormai certi che per rimettere tutto in sesto sarebbe servito chissà quanto lavoro, desistono da ogni tentativo e se ne vanno a dormire. Se non che la mattina dopo i macchinari riprendono a funzionare come se nulla fosse successo. C'è chi dice che l'antico padrone della segheria, che aveva sempre rispettato la regola, di non lavorare il 13 dicembre, avesse voluto far capire che quel giorno non bisognava proprio lavorare. E quindi guai a chi non rispetta le regole, specialmente il 13 dicembre Santa Lucia. a chi non rispetta l'antico padrone a chi non rispetta l'antico padrone che salvation